Bando alle ciance, mi sentite? Pronto? Sì? Mi hanno già presentato fin troppo bene quindi grazie, quindi possiamo benissimo saltare la slide. Io oggi di solito parlo tanto di influencer marketing ma oggi volevo un attimino essere un po' provocatorio e allora ho fatto il mio intervento voleva andare controcorrente e farvi capire che partire dal presupposto che l'influencer marketing non sempre funziona, almeno quando non è fatto correttamente. Ormai è un paio di anni che nonostante l'influencer marketing sia sempre esistito perché negli anni 80 c'era comunque il critico gastronomico, il critico cinematografico che dettava diciamo trend e leggi tra virgolette nel mercato, ovviamente l'arrivo dei social come ben sapete del web ha dato la possibilità a tutti di avere voce e quindi di diventare anch'essi creator e questa fa tutta la differenza del mondo perché ovviamente ha permesso anche a queste persone di far sentire la propria voce. Da due anni a questa parte però c'è un trend forte sull'influencer marketing e c'è un po' l'idea che sia la soluzione a tutti i mali. Io faccio campagna influencer marketing quindi non dovrei dirlo ma non è la soluzione a tutti i mali e cercheremo di capire perché. Partiamo dal presupposto che in questi ultimi anni appunto c'è un dogma che l'influencer marketing va per forza fatto e è uno strumento che è molto molto performante ma l'influencer marketing realmente funziona? Secondo l'ultima ricerca stilata in Italia da Launchmetrics, Launchmetrics è una software house ex augure che fa prodotti esclusivamente dedicati all'influencer marketing, tra l'altro il loro tool è un vero CRM per influencer marketing seppur molto costoso è uno strumento molto molto performante la tua agenzia l'88% loro fanno tutti gli anni un report a livello mondiale intervistando i marketer nell'ultimo anno in Italia l'88% degli intervistati quindi persone che lavorano con i brand o hanno agenzie quindi esperti di settori era si riteneva soddisfatta e ci spiegava come l'influencer marketing nel loro caso fosse funzionale e avesse funzionato in maniera in maniera molto forte. Una percentuale che addirittura è confermata io sono partito due mesi fa a fare un sondaggio italiano sia per i marketer che per gli influencer cercando un po' di avere dei dati freschi perché Launchmetrics adesso si è un po' spostata solo nel settore fashion. Vi do un risultato in anteprima che non sarà quello finale ma fino ad oggi che avevo più di 400 marketer intervistati anche secondo il mio sondaggio il 71,43% di chi ho intervistato si riteneva addirittura da soddisfatto a molto soddisfatto quindi mi viene da dire che è reale, è vero che l'influencer marketing funziona ma io ho un po' i miei dubbi. Vi ho preso un esempio ma potevo prenderne 800.000 quindi non ce l'ho con la signorina Simona Salvemni ex GF ma è per farvi capire né ce l'ho con il brand che sponsorizza e di cui non farò un nome per correttezza anche se lo leggete avrei potuto prendere un sacco di foto che potete chiunque di voi apra Instagram quotidianamente si trova dinanzi a questo tipo di immagini. Al di là del giudizio qualitativo sull'immagine, sull'affinità del brand che sono veramente elementi di analisi estremamente approfonditi che andrebbero visti ma diciamo che non abbiamo il tempo per andare a evidenziare in tutti i vari elementi ho preso uno dei post della signorina Salvemni e ho cercato di analizzarlo per avere al di là almeno dove posso arrivare io con la mia analisi per capire se davvero era stato uno strumento performante. Beh se facessi quello che fanno la maggior parte dei brand e le agenzie che magari fanno l'influencer marketing spendi da trend direi che è andato molto bene questo post perché ha avuto 3057 interazioni ha avuto 35 commenti quindi direi che è andato molto bene no? E invece fermandosi qui come fanno anche molti miei clienti purtroppo tutti contenti ma a meno diciamo che io non sono contento perché quando si parla influencer marketing si parla di marketing quindi io devo portare un risultato concreto al cliente non esclusivamente una manciata di like. Ho analizzato quindi il post che vi ho fatto vedere e questi sono scusate che sono un po' sgranati ma sono print screen presi da Instagram. Sono alcuni dei commenti arrivati. Su 35 commenti ce n'era solo uno relativo al prodotto che diceva si funziona davvero e secondo me una del marketer era legata secondo me al brand ma sono io che sono brutto e cattivo a pensare male. La maggior parte dei commenti quindi non c'entrava niente con il prodotto. Parlava di lei e delle sue forme e grazie a Dio ho scelto un post abbastanza tranquillo coperto perché nella prima versione delle slide ero stato leggermente più lascivo diciamo. Giusto per far venire alcuni. Maglia Levis disponibile da noi perché aveva una maglia della Levis quindi addirittura c'è gente che ti fa pubblicità sulla tua. Tu non hai bisogno che penso che sia per un prodotto la cosa peggiore perché di sicuro non stai spingendo. Di che marca sono gli occhiali è uno degli altri commenti e tra i commenti che parlano delle sue forme abbastanza generose ho scelto questo spagnolo ma giusto il tenore poi a secondo di quanto si spogliano e che poi questo genere di post come vi ripeto penso che li vediate quotidianamente peggiora sempre di più ma ad elementi peggiora spesso esageratamente. Ho analizzato per i miei clienti che volevano usare delle celebrities post DXGF di personaggi come Nina Moric. Si leggono dei commenti spesso che sono letteralmente aberranti a pensare che un mio cliente, una persona mi paga per fare un buon lavoro, potesse finire il brand associato a quei commenti io sarei decisamente preoccupato. Ma addirittura quando il tono non è, e come questo ce ne sarebbero altri, ve ne ho analizzato uno solo per questioni temporali, addirittura quando c'è un minimo di interesse nel prodotto, questo era su un altro in cui lei era molto svestita quindi non vi faccio vedere la foto, quando c'è un minimo di interesse perché la ragazza dice mi è arrivato tutto il kit proprio ieri, sapresti, insomma almeno hai fatto un minimo un buon lavoro, no perché non risponde, quindi nel senso diventa esclusivamente una vetrina atta solo del product placement, quindi mi verrebbe da dire in questo caso ha funzionato l'influencer marketing? Ho qualche dubbio, ma soprattutto questo è influencer marketing o è semplicemente un advertising fatto male? Vediamo, anche perché la signorina Simona Salvemini solitamente hanno dei costi abbastanza importanti queste figure, io vi ho usato un sistema che si chiama Instagram Money Calculator, è free, prendetelo con le pinze perché il valore del post medio che dà, dell'account che state analizzando si basa prevalentemente su le interazioni, cose in parte vera perché è una sorta di concetto del valore equivalente, ma quando passate soprattutto dalle celebrities per esperienza personale i prezzi li evitano in maniera gigantesca, personaggi tipo Pio e Amedeo, non so se conoscete quelli di Emigratis, sono capaci di arrivare a chiedervi anche cifre come 20-25 mila euro a post, è vero che poi si fa 100 mila like e un milione di reach, ma spesso poi con il medesimo risultato che avete visto, cioè il prodotto non viene praticamente mai citato, quindi quando una persona fa influencer marketing deve comunque sempre stare attento a questi elementi e soprattutto deve avere la coscienza che sta facendo investire una cifra abbastanza alta perché questo è un altro segreto dell'influencer marketing, è finito il ben godi, quando io ho iniziato a farlo e prima si chiamavano, alla fine la chiamavano digital PR ma era bene o male, la stessa cosa era un bel ben godi perché mandavi a un blogger un comunicato stampa e una lattina di coca cola personalizzata e ti veniva anche a pulire casa quasi, scusate il termine. Oggigiorno invece il trend in crescita, il fatto di averlo valutato sempre più in maniera come quasi una professione, che da una parte è meglio perché vuol dire avere collaborazioni professionali, cioè gente che ti risponde in tempo, consegna in tempo, cosa che prima non era, è altrettanto vero che ha portato il budget dell'influencer marketing a crescere in maniera esponenziale, quindi fare una campagna fatta bene o fatta male fa tutta la differenza del mondo perché non solo rischio di non portare risultati ma rischio di aver gettato al vento un budget considerevole. Vi ripeto, quando si inizia a parlare di 10, 15, 20 mila euro a posto o a video, insomma il gioco inizia ad essere abbastanza pesante. Non solo, qui sono piccole, le foto molto nude quindi mi sono permesso, non solo, uno dei sistemi che utilizzo io, che si chiama Clear, è uno secondo me dei migliori tool dedicati all'influencer marketing che ti permette di fare ricerche, analizzare e addirittura fare poi della reportistica, cioè non per fare, ce ne sono tanti, blog meter, launch metric, io uso quello, uso tra l'altro quello e mi trovo molto bene, addirittura quando analizzo un profilo ti permette, in maniera molto simpatica, di vedere con quali brand ha fatto pubblicità il profilo che stai analizzando, quindi non solo tutto quello che abbiamo visto ma la signorina Salvemini addirittura ha fatto 12 post con il brand che avevamo analizzato, cioè di cui la foto, che era presente nella foto analizzata, ma ne ha fatte 14 con uno pseudo competitor. Quindi andiamo ancora più a gravare la situazione, ma perché? Perché chi sceglie probabilmente si lascia trascinare dal fattore celebrity, dalla manciata di like, dall'esposizione in altri canali, è un classico il mondo dei reality, vi dico, quando ai brand grandi arrivano subito il periodo post chiusura dei reality, arrivano richieste o comunque spinte interne per poter utilizzarli sempre di più. Quindi abbiamo visto che ci sono state interazioni ma quasi nessuna legata al prodotto, non si è creata nessuna minima relazione, che è l'obiettivo maggiore di influencer marketing, perché in chi io faccio tante campagne, se volete un canale di vendita diretta si fa AdWords o si fa Facebook ADS, non si fa influencer marketing. Influencer marketing serve per fare altro, serve per supportare queste altre attività, serve per creare reputation, per generare autorevolezza intorno al brand tramite queste figure, se scelte bene, competenti, credibili, autorevoli, serve per creare quel substrato positivo che poi va a influenzare il momento zero di cui parlava Google. Quindi serve, non vi nego che quando fatto bene funziona e lo vedremo alla fine, ma ovviamente va sempre ponderato anche l'obiettivo che vogliamo fare, ma vi ripeto, non solo abbiamo visto che engagement alto ma non legato al brand, abbiamo speso parecchi soldi, abbiamo avuto dei contenuti relativi al brand discutibili come qualità e come affinità e come stile rispetto a quello che è il brand, ma non solo, sono finito in una feed di Instagram dove se mi va bene il giorno dopo c'è il mio competitor. Quindi quel poco di credibilità che può avere la signorina Salveni, ma vi ripeto, prendo l'esempio, ma potrei prendere un miliardo, non ce l'ho fatto, anzi lei fa bene a farlo finché i brand la pagano. Già qualche dubbio potrebbe venire, questa è una ricerca realizzata da Altimeter, si chiama Trust Barometer, analizza tutti gli anni quali siano le figure più credibili per gli utenti online. Non è un caso che le celebrities siano molto poco credibili, perché? Perché non hanno competenze verticali, perché sono poco credibili, perché tendenzialmente si vendono, anche qui nessuna critica ma è proprio un atteggiamento. E al primo posto invece c'è per esempio gli esperti accademici, il bollino dell'università fa ancora, per esempio i miei amici e la mia famiglia, i cosiddetti microinfluencer, le persone vicine a noi. Quindi già dobbiamo stare attenti in fase di selezione a capire qual è il nostro obiettivo, perché se voglio fare awareness magari senza arte né parte e non c'è nulla di male, magari se devo lanciare un prodotto, magari va bene la celebrities perché ha una reach molto forte e rilevante. Con post di più amidea si raggiungono reach anche di, non scherzo, un milione di reach si fa anche. Però se voglio fare un passo ulteriore sicuramente avrò dei dubbi se questa scelta è reale o meno. Ma cos'è che non va nella campagna che almeno in parte nel post che abbiamo visto? Che è una, la selezione dell'influencer che è il momento chiave dell'influencer marketing, perché la persona giusta al posto giusto fa la differenza in ogni attività, nell'influencer marketing è decisamente vitale, visto che si tratta di fare campagne mediate da queste figure scelte. La selezione dell'influencer è stata basata solo sul fatto che si parlava di una celebrities e che ha un numero di, e sulla valutazione dei follower, ma valutazione numerica, non qualitativa. Quindi non mi interessa vedere se ce n'ha, se io vendo solo in Italia magari c'ha il 50% per non dire in Thailandia o in Cina o in, non lo so, in India, magari anche negli Stati Uniti. Quindi magari sono comunque persone reale, però se io vendo in Italia non ho molto interesse a farlo. Che l'engagement, come abbiamo detto, non basta, ma deve essere un engagement di tipo qualitativo, rivolto al prodotto, deve generare prima conversazione e poi relazione, altrimenti risottolineo. Diventa un advertising pure e semplice, che risottolineo, non c'è nulla di male nel fare advertising, ma conviene scegliere strumenti veri e propri di advertising a questo punto e non questo. Che il product placement non porta da nessuna parte, perché è difficile evidenziare le qualità del prodotto, far sentire immerso nell'esperienza di prodotto e passare le qualità appunto alla credibilità, all'autorevolezza solo semplicemente mettendo una bella signorina con in mano una scatola di prodotto. È molto limitante. E la mancanza totale, nel fase di selezione e di impostazione del prodotto, della generazione della credibilità e dell'autorevolezza che è generato da una persona competente. Questo non significa che bisogna sempre per forza prendere esperti accademici, però probabilmente se questo post fosse stato fatto fare da un esperto di nutrizione avremmo raggiunto risultati in termini di reach e di engagement estremamente inferiori, ma magari quei 30 like e quei due commenti arrivati sarebbero stati leggerissimamente più in tema e magari ne avrebbero spinto a relazionarmi e forse poi a vendere un prodotto, cosa che sfido sia successo in questi esempi. Anche perché vi dico, a volte i miei clienti non sempre mi ascoltano, ho fatto campagne di questo genere con Celebrity, se vi dico che a parte un leggero picco il giorno dopo su Analytics la vendita è quasi sempre pari a zero. Però a questo punto mi direte, allora non facciamo influencer marketing, e sento spesso parlare sul web perché poi i trend sono sempre così, si va sulle montagne russe e poi si riscende tutto nero o bianco. Io mi piace sempre dire che qualunque strumento sia, la colpa non è quasi mai dello strumento, ma il problema è come questo viene utilizzato, se ti utilizzi uno strumento e le sue opportunità nella maniera corretta, sfrutti queste opportunità, se viceversa forzi il sistema per cercare di trovare scorciatoio o lo utilizzi senza la dovuta preparazione, difficilmente porterai qualcosa di buono al tuo progetto. Ma quindi come si fa, partendo dal presupposto che quello non è influencer marketing, come si fa a fare una campagna di influencer marketing che possa essere appunto performante, ci sono degli elementi essenziali da cui partire e su cui basare la strutturazione strategica della nostra campagna. La prima cosa è fissare gli obiettivi, per obiettivi parlo di obiettivi concreti, non parlo di voglio due like in più, devono essere obiettivi che partono da obiettivi concreti dell'azienda, quindi migliorare la propria reputation, migliorare la percezione del prodotto, umanizzare il brand, aumentare le vendite, che poi ovviamente è la soluzione a tutti i mali, e da questo poi lo decliniamo, questi obiettivi cerchiamo di trasportare declinandoli a livello digitale, però non è il contrario come succede molte volte a miei miei clienti che partono dall'idea di voler fare un progetto perché magari l'hanno visto fare un competitor, si parte dagli obiettivi che hai, anche perché dagli obiettivi che hai deriva l'elemento della selezione, perché come dicevo, se voglio fare awareness spintissima magari una celebrities va più che bene, se voglio fare lead generation invece mi servirà, se voglio fare lead generation su un, facciamo un plugin di wordpress visto che siamo in tema, probabilmente mi servirà uno degli esperti che parlerà oggi e che mi evidenzi, è credibile, è autorevole e magari mi dimostra con contenuti di qualità il perché dovrei magari partecipare all'webinar o fare una demo o chi più ne ha ne metta. Il secondo punto è creare un concept forte e vincente. Il concept non è una banalità, quando io vi ho segnalato il product placement ci tenevo a sottolineare, a evidenziarlo perché non è tanto una questione di fare qualcosa di originale, ma il concept è lo strumento in cui riusciamo a mettere l'influencer che abbiamo selezionato, si spera bene, in condizione di far esaltare quelle che sono le sue qualità. Fare product placement non è mai quindi una buona strada. Quindi se io seleziono casa suraceo de jackal, probabilmente devo creare un concept che li metta in condizione di far venire fuori magari il suo e loro tono ironico, giusto per farvi degli esempi. Viceversa se faccio una campagna basata su esperti riconosciuti di settore, dovrò trovare un concept più originale e meglio è perché mi differenzio dalla massa, ma il concetto è che devo trovare un tipo di attività, di progetto che sia in grado di far esaltare queste loro competenze. Il concept è un punto quasi mai considerato quando si struttura una campagna influencer marketing, ma per esperienza personale fa tutta la differenza del mondo. È inutile prendere un famoso instagrammer o un bravissimo ragazzo che fa i video, magari molto particolari, se risottolineo non lo metto in condizione di vivere un'experienza, un'esperienza che possa permettergli di tirar fuori delle grandi foto e dei grandi video. Posso essere anche veramente il miglior videomaker, il miglior youtuber del pianeta, ma se mi porti in un luogo dove è difficile girare un video di qualità, dove magari non ho degli elementi che mi permettono veramente di fare la differenza, la sua bravura si andrà decisamente disperdendo. La selezione, poi, il terzo punto, un altro dei punti fondamentali, va fatta data driven. Cioè quando seleziono degli influencer mi baso sui dati, cioè faccio analisi. Non è che scelgo tizio o caio perché sono gli influencer del momento o mi affido a liste. Tante delle agenzie di PR che utilizzano tante aziende perché magari già ci collaborano, molto spesso si sono adeguate. Tante volte invece utilizzano i sistemi offline che utilizzavano fino a ieri e che sono andati bene per 40 anni online. Magari hanno quindi delle liste Excel, ma il web è vivo, io devo vivere il momento. Quindi l'influencer che va bene adesso non è detto vada bene fra 20 giorni perché magari fra 20 giorni avrà fatto qualcosa online, avrà fatto delle dichiarazioni sui migranti sbagliate e la sua reputation magari non sarà più adeguata per poter essere selezionato. O l'engagement che produce adesso per x motivi tra sei mesi potrebbe non essere adeguato. L'audience che ha adesso tra sei mesi potrebbe non essere più quella la composizione dell'audience e quindi il suo essere adeguato perfettamente oggi non si ripeterà nella parte finale. Ultimo, un ultimo step, la misurazione. Misurazione che non ci serve solo alla fine per far vedere di aver fatto un buon lavoro che non si è buttato via magari 10-15 mila euro. Ma è un'attività continua per vedere di fare fine tuning di quello che stiamo facendo. Quindi è molto importante. Anche si chiama influencer marketing non a caso quindi non è che arrivo e do una pacca sulle spalle al mio cliente dicendo è andata molto bene la campagna perché l'hanno vista in tanto. Non funziona decisamente così. Ve lo dicevo si parte dagli obiettivi. L'influencer marketing se ha un vantaggio è quello di essere molto dinamico e molto ampio sia per obiettivi che per tipologie di attività. Ve ne cito giustamente qualcuno ma vi sottolineo la visibilità ma anche elementi obiettivi più qualitativi come la re-generation. Per esempio funziona molto bene per migliorare la brand reputation e per cambiare posizionamento l'influencer marketing che si prende in prestito il posizionamento, la fiducia, il trust di figure credibili che hanno un posizionamento molto forte si prende in prestito per il brand e quindi riusciamo a farle valere anche per la nostra realtà, dimostrare la nostra leadership, incoraggiare all'acquisto e sono solo alcuni. Ovviamente risottolineo. Alla scelta di questo sarà completamente diverso la selezione di influencer ma anche delle attività che devo fare. Ovviamente le attività che faccio per la awareness non potranno essere per la lead generation. La lead generation dovrò lavorare a quattro mani per fare dei contenuti, webinar, video, ebook, chi più ne ha ne metta. Solo per citarne alcuni. Oh, questo abbiamo già. Ricordiamo quando creiamo il nostro concept che essere utili rimane la migliore forma di influenza. Io seguo, ho iniziato sei o sette anni fa, calcolate quando ho iniziato a approcciarmi al digitale, non esistevano studi di questo tipo all'università, quindi io ho iniziato a seguire blogger americani, li ho nel mio feed RSS, purtroppo non ho tutto questo tempo di leggere oggigiorno, ma continuo a seguirli per la maggior parte. Perché? Perché mi sono utili. Perché abbiamo impostato una relazione che si basa su io continuo a seguirli finché te continui a darmi dei contenuti che mi possono essere utili e rispondere a delle esigenze che ho. finché non tradiranno questo tacito patto, qualcuno l'ha fatto, io continuerò a seguirli, ma non è gentilezza, è una questione di senso di utilità, di rispondere a delle esigenze. Quindi quando costruiamo un concept cerchiamo di capire le necessità dei nostri utenti, perché se riusciamo a dargli in parte risposta funzionerà bene. Aranzulla è un influencer, perché? Perché la gente, a parte che si fida di lui e altro, ma perché gli risolve i problemi, banali che siano. Mi sei impallato il Mac, per una persona può essere la più grossa banalità, ma per mio padre che ha 65 anni è un problema enorme. E se me lo risolve in due minuti, per lui è un punto di riferimento e continuerà a relazionarsi con lui. La parte di data driven, ormai anche questo è un po' un trend, utilizzare il data driven, noi lo utilizziamo in agenzia anche per tutta l'attività social, è un cliché, ma se usato bene fa tutta la differenza del mondo, perché mi permette appunto di analizzare quello che sto facendo, il mercato e altro, mi permette di fare una strategia che sia appunto guidata e basata sui dati, che risottolineo, questo non significa non avere rischi e aver di sicuro in casa il successo, ma sicuramente mi dà più probabilità di riuscita a basarmi su dei dati concreti che su mie sensazioni o le sensazioni del cliente, che magari pensano ancora di essere leader del mercato, fai una ricerca di web listening o social listening, e magari spesso la situazione è completamente differente, e fare appunto fine tuning, quindi sistemarla e adeguarla durante la campagna per renderla migliore. Cosa posso analizzare attraverso i dati? Per esempio parlando di influencer e di selezione, l'audience, quindi io potrò andare a fare un'analisi prevalentemente qualitativa, quindi che tipologia ha la sua audience, l'età, il settore dove sono più interessati, il paese, come si può fare questo? Attraverso un'analisi dei social, attraverso dei tool di analisi, io ne ho citati due, ma ce ne sono un'infinità, e ovviamente per certe parti chiedendo all'influencer stesso, per esempio sui blog c'è similar web e compagnia, ma spesso per progetti grossi io chiedo i dati di analitica all'influencer che voglio coinvolgere. Questo è un esempio di cosa fa Clear, per esempio, che mi dice l'engagement medio, mi dice con chi ha già collaborato, mi dà un'idea dell'audience, questo è uno screen di base, mi dà un'idea della true reach, ma mi dà anche qualcosa di più, per esempio, mi dice gli elementi, mi dà dei dati abbastanza concreti sull'audience, su chi ha interagito con quella, questa è della Simona Salvemini, che vedevamo prima. Con questo io riesco comunque, non è, sì? Clear, K-L-E-A-R, sono israeliani, sono abbastanza bravi. Addirittura adesso c'è, fanno il tracking delle stories, addirittura, chi fa campagna influencer marketing come me cambiava tutto l'universo. Immaginatevi fare una selezione di influencer con questi dati, è decisamente più facile, è decisamente più sicuro, che andare a risottolineare un po' a sensazione. L'analisi dell'engagement, stessa cosa, non è che non interessa, mi interessa come vedere cosa genera, poi, come abbiamo visto, magari dobbiamo comunque poi andare a fare un minimo un'analisi qualitativa, quindi nostra critica, per vedere che tipo di engagement sia. Però, al di là degli strumenti come Clear o di social analytics, esistono sistemi tipo shared account, back tweets, che ti permettono anche di valutare se è un blogger l'impatto del blog a secondo delle condivisioni. La reputazione, qualcosa che non viene mai analizzato, ma è fondamentale, perché io demando la faccia, il volto della mia azienda, l'immagine della mia azienda, a chi collabora con me. Se lui ha uno scheletro nell'armadio, e io non lo so, i danni sono enormi, non si possono sempre parare, perché se io l'ho già ingaggiato e domani lo trovano alla guida in stato d'ebrezza, i miracoli non li faccio. Però, almeno, evitiamo di capire se ci sono, cioè, vediamo se ci sono già degli scheletri. Spesso basta Google, ma bisogna andare in seconda, terza pagina, perché ci sono attività furbesche per cercare di buttare avanti l'iscrizione social, in modo che tutta la cacca vada in terza pagina. Ma basta spesso, se lo avete, fare un'analisi con Talkwalker, con Talkwalker, Crimson Hexagon, Mention, con sistemi di social e web listening, è abbastanza facile vedere se, però, ripeto, per chi non ha budget per avere strumenti del genere, basta spesso armarsi di pazienza e utilizzare Google. La reputazione è un elemento chiave, io tutti gli influencer che seleziono, li passo, gli faccio un'analisi della reputation, perché è un elemento chiave. Questo è un esempio di reputation su una figura che avevo selezionato, che il mio cliente voleva usare, gli ho detto, ma anche no, per esempio. È una famosa Celebrities. Questo negativo, neutro, positivo. Quindi, qui si fa abbastanza, era abbastanza la situazione, io lo sapevo perché era scoperto un caso in Twitter, quindi lo sapevo già, però gli avevo comunque fatto un'analisi di questo tipo. Però, i dati non bastano, quindi ai dati numerici va aggiunta poi, come dicevo, una parte critica, una parte critica perché ci sono degli elementi che non possono essere valutati con i numeri. Per esempio, la qualità dei contenuti prodotti. Lì sta la vostra sensibilità, onestamente, ed è però qualcosa di importante. Il know-how su un topic, capire se è esperto o no di WordPress, il team di oggi avrà fatto le loro indagini, non è solo loro con la loro sensibilità, può sapere se è veramente quanto è competente. È un elemento dimenticato, ma troppo fondamentale, l'affinità. Io posso selezionare la persona più competente, che crea più engagement, con l'audience perfetta, ma se non ha il mio stesso tone of voice aziendale, se non è affine al mio stile, difficilmente genererò impatto. Io non posso prendere una persona che ha un tono, appunto come casa surace o dejacal, che hanno un tono ironico, se sono una casa farmaceutica, ad esempio il mio tone of voice della comunicazione è prevalentemente accademico o serioso. Sembrano banalità, ma vi assicuro ci si casca, cioè, quotidianamente vedo situazioni del genere. Quindi, l'affinità è fondamentale, anche perché difficilmente sarà credibile per la nostra audience, o viceversa per l'audience dell'influencer, questo rapporto, se non si va a questo punto. Questi sono alcuni dei tool che si possono utilizzare che sono dedicate all'influencer marketing. Launchmetric, che vi dicevo che è una suite dedicata, Tracar, che è un sistema americano molto ben fatto per fare ricerca e analisi, Clear, che è quello che utilizzo di più, che fa ricerca e analisi e contemporanea fa monitora, e Blogmeter ha recentemente, che è un famoso tool di social listening, ha rilasciato una sezione dedicata all'influencer marketing. In un minuto vi faccio vedere un esempio di una campagna che sono mai fatta bene, che è una campagna che ho fatto direttamente io, poi giudicherete voi se è fatta bene, per un brand che faceva frutta secca, ha lanciato recentemente, non vi dirò il brand per far prima, un prodotto, un prodotto che era un fermentino, quindi una sorta di formaggio vegan, un fermentino delle mandorle e degli anacardi. La loro idea non era posizionarsi sul classico filone vegan, ma imporsi come un prodotto che potesse essere utilizzabile da una cerca più ampia possibile di persone. Con l'intento, la filosofia era che era sana e buona. Cosa abbiamo fatto allora? Per passare abbiamo dovuto fare un progetto estremamente valoriale. Abbiamo selezionato, in maniera data-driven, 20 influencer, e gli abbiamo chiesto, per una settimana, di migliorare il loro stile di vita, quindi rinunciare allo zucchero, al latte, non bere birra se bevevano, se non si muovevano correre. Passando proprio il concetto, assimilando il concetto di valoriale, di sano e buono, che doveva avere il prodotto all'attività che hanno fatto. Non solo, ogni influencer che accettava questa sfida, noi facevamo una donazione a Dynamo Camp, che è una realtà Ollus molto famosa a livello globale, c'è anche in Italia. Quindi univamo la corporate social responsibility, che era un modo, secondo me, intelligentissimo di dare ancora maggior valore al prodotto e unire il concetto di sano e buono. Ma ancora di più, era un concetto fondamentale, perché cosa c'è di più concreto della corporate social responsibility? Poco. E in questa maniera, davamo concretezza a qualcosa che di solito è ritenuto poco concreto, come le attività degli influencer. Cosa abbiamo prodotto? A costo quasi zero, perché tra l'altro, fare un concept fatto bene come questo, ci ha permesso di avere degli influencer da 4-5 mila euro a gratis. Perché? Perché gli era piaciuto il progetto, perché si sono sentiti coinvolti. Abbiamo quindi, con praticamente dei costi irrisori, a parte la donazione, che però va anche in parte, abbiamo prodotto numeri discretamente rilevanti. Però anche lì, i numeri vanno analizzati. Mi direte, potrebbe essere come fatto per la Salvemini? No, perché io ve lo dimostro. Questi sono i voluti, ho fatto una ricerca di web listing nei mesi di campagna, i precedenti, i picchi che vedete, sono i momenti in cui c'era stata la campagna. Quindi, le conversazioni online sul prodotto e sulla campagna sono state molto superiori alla precedenza. E la cosa più interessante, facendo un'analisi sempre dei contenuti online, questo giallo, vedete, era l'attività di campagna. Quindi era decisamente determinante nella comunicazione online del prodotto la presenza della campagna, dimostrazione che ha fatto sia numeri, ma anche qualitativi. Grazie.